La nostra associazione è nata nel 1991 per volontà mia e per volontà di alcuni miei amici. Noi lavoriamo in tutto il territorio di Argenta perché è per la popolazione di Argenta che noi siamo nati e quindi noi non disdegniamo comunque di rivolgerci anche alle popolazioni dei comuni limitrofi. I nostri servizi sono essenzialmente di trasporto, trasporto sanitario e usiamo tre tipologie di mezzi. Usiamo automobili per le persone che sono maggiormente autosufficienti, usiamo pulmini per disabili per persone che sono in carosella ed ambulanze per le persone che invece hanno un'invalidità superiore. Sono volontaria da novembre 2006, ho deciso di farlo perché praticamente è stata più che altro un'occasione, avevo tempo da spendere in qualche modo e ho deciso di spenderlo così. Con la Valle Perga ci si trova molto bene, i ragazzi sono molto bravi, tutti quanti. Noi stiamo accompagnando un signore a una visita specialistica a Sant'Anna di Ferrara, come facciamo quasi di giorni con tanti pazienti. Molte persone mi ringraziano per il servizio che diamo. Ecco, da questo punto di vista è poi la nostra paghe questa. Noi andiamo in tutte le scuole di ogni ordine grado di Argenta e facciamo una sensibilizzazione al volontariato. Ad esempio nelle scuole elementari noi spieghiamo ai bambini che cosa vuol dire essere volontari, perché si fa ai volontari e loro ci fanno delle domande estremamente stimolanti. Ci chiedono perché noi facciamo il volontario e noi rispondiamo sempre perché la sera siamo felici di aver aiutato qualcuno. Pertanto noi siamo qui a dirvi oggi diventate volontari perché un giorno forse sarete più felici di oggi.